Come ogni anno a Grigento festeggia San Calogero, fitto il calendario delle celebrazioni che si concluderanno domenica 8 luglio con la solenne processione del simulacro del santo per le vie della città. Migliaia di turisti e di fedeli in questi giorni in visita al santuario di San Calogero, per gli aggrigentini esempio di solidarietà e misericordia. Una devozione dalle origini antiche ma fervida tutt'oggi, raccontata dagli ex voto, suggestive testimonianze di fede tra passato e presente.